In settimana, durante la trasmissione del giornalista Criscitiello, Alessandro Moggi commenta così la carriera del tecnico boemo. Zeman, il suo numero di soneri è maggiore di quelli fatti dal presidente Zamparini. L'allenatore del Pescara risponde così. A me sono abituato a queste cose, io penso che di lui in questura ne sanno di più, lo lascio stare.